Ottima potenza legale in una e-bike pieghevole dal fascino vintage OT16 versione 2 Una elegante e-bike per percorrere percorsi urbani ed extraurbani che monta un motore perfettamente legale in Italia da 250 watt 48 volt con un'assistenza di pedalata fluido e performance migliorate già ulteriormente dalla prima versione che ho presentato sul canale e sopra di me trovate il video dedicato un motore con una coppia da 40 newton metro con una funzione cruise control per una guida veramente fluida e molto maneggevole vi crea una velocità standard allineata sulla vostra pedalata che davvero vi aiuta una velocità di 25 chilometri orari in linea con la normativa vigente OT16 2 è dotata di una comoda batteria estraibile in questo modo sempre con un sollevamento della sella e due chiavi in dotazione che vi permettono di rimuovere comodamente la batteria per ricaricarla sia in garage sia direttamente attaccata alla bici lei ha 48 volt 17 ampere ora e consente un'autonomia davvero impressionante arriviamo con un livello di assistenza 1 ne ha 3 fino a 120 chilometri veramente sempre di più assolutamente perfetta per pendolari e rider e perfetta anche per tutti quelli che vogliono vivere avventure fuori città e dentro la città in modalità puramente elettrica è sì perché anche qui abbiamo la possibilità di inserire il comodissimo acceleratore che non è legale in Italia lo dico ma con due comodi clic si installa vi permette di fare fino a 60 chilometri in modalità puramente elettrica l'acceleratore lo trovate insieme al piccolo pezzo di manopola che vi serve per coprire lo spazio sostituendo la manopola ora esistente e la trovate direttamente dentro la confezione carichiamo questo piccolo mostro con un classico carica batterie 56,6 volt 2 ampere input 110 240 volt si carica completamente in circa otto ore prima carica consigliata piena da otto ore una bici che come vedete è compatta comodissima la caricate nel vostro baule della macchina e in due secondi la ricomponete il cuore di questo sgancio gancio sono i due sganci rapidi ne troviamo uno nella parte centrale come la classica grassiella e uno nel blocco nel piantone dello sterzo hanno anche il blocco di sicurezza una batteria che pesa 4 kg che però è comodamente visionabile per quanto riguarda la carica rimanente anche con un semplice clic direttamente sul pulsante di accensione che trovate sopra la batteria si estrae sempre con la comoda estrazione a mano dicevo due chiavi in dotazione abbiamo una serie di funzioni della chiave fra le quali anche lo sblocco appunto della batteria e l'accensione è anche un comodo antifurto rimuovere chiaramente la chiave vi consiglio di utilizzare anche un buon lucchetto lega di alluminio e acciaio non è leggerissima 29 kg di cui vi dicevo 4 kg di batteria ma abbiamo dei grossi miglioramenti in questa fantastica scocca guardate i cavi sono spariti non sono più esterni come nella prima versione ma sono tutti all'interno la bici è compatta cromata in questa versione così vintage che a me piace davvero tanto la trovate in altre due versioni tutte molto belle ma davvero ci sono saldature e rifiniture di verniciatura ad alta ad alta qualità cambio shimano tarney 7 rapporti lo sappiamo si sgancia e si guida da qua è sempre molto comodo e molto fluido un cambio che vi aiuta in quelle che sono le salite più complesse nonostante la bici vi aiuti tranquillamente fino a 25 per cento di salita e oltre con il discorso elettrico che va sempre un po regolato freni a disco davanti e dietro 16 mm con una buona pinzata fin da subito ruote che come sapete io amo in questa versione poi double color per me sono fantastiche 20 pollici per 3 pollici con uno pneumatico che ha una mescola con un ottimo grip che vi permette di andare in tutti i terreni come vedrete e come avete visto nei vari test che ho fatto non abbiamo più il cerchio in lega questo segue un po' l'idea della bici vintage e abbiamo questi classici ma molto belli cerchi con le razze ammortizzatore frontale che ha un'ottima corsa e si regola anche bene quindi più comfort in buche san pietrini dietro non abbiamo un ammortizzatore nella scocca ma l'abbiamo nella comodissima sella taglio centrale e questo bel colore vintage ci permette davvero di avere un qualcosa di più rispetto a tanti concorrenti del mercato quindi schiena comoda e ben protetta con questa sella ammortizzata display migliorato rispetto all'altra versione a colori questa volta bello e come sempre intuitivo tre semplici tasti più accensione meno più e meno per i tre livelli di assistenza pulsante di power per accendere la bici teniamo spinto più abbiamo l'accensione delle luci led frontale e posteriore teniamo spinto meno classico walk assist in salita la bici ci segue e non facciamo fatica a trasportarla se camminiamo e super news app dedicata che vedete qui al mio fianco che vi permette di avere tutta una serie di dati ulteriori che si configurano e dialogano appunto con il nostro control display quindi abbiamo gite che al cento per cento sono tutte segnate con percorso chilometri e tante tante altre novità app bellissima idea dicevamo tre modalità di modo di pedalata quindi muscolare classica poi abbiamo la modalità assistita nei tre livelli e poi abbiamo la modalità puramente elettrica urban kit che secondo me migliora sempre ed è sempre più completo partendo dal piantone che è regolabile in altezza abbiamo il nostro comodo display manopole che grippano ben colorate che mi piacciono molto campanello discorso della bici pieghevole che è fantastica una sella super ergonomica parafango davanti e dietro bello molto bello cromato buon cavalletto non abbiamo e questo secondo me è da segnalare però si può sempre migliorare il copricambio che è importante per me per evitare le botte soprattutto in chiusura luce led che non è per niente abbagliante ma è ottima soprattutto di sera chiaro davanti e dietro catari frangenti 4 come da normativa italiana sotto abbiamo questo che è un gancio per appoggiare la bici porta pacchi veramente resistenti da oltre 20 kg che ha anche già dei fori quattro fori per poter inserire un cestino o un contenitore per i rider hai fatto un gioiello ma mettici il campanello elettrico impermeabile ipx 5 quindi si bagna tranquillamente ma evitate di immergerla la possiamo usare da meno 10 a più 45 senza avere alcun problema neanche alla batteria carico massimo 100 110 kg altezza io sono 1,88 e la guido benissimo mia moglie è 1,70 e la guida veramente bene testata su più terreni dalla ghiaia all'asfalto allo sterrato classico davvero a performance degne di una bici con diciamo caratteristica juventure parte senza fatica e l'assistenza aiuta veramente in maniera fluida ritmo e cadenza di pedalata vengono interpretate discretamente e riesci sempre avere un buon flusso si manovra davvero bene la lunghezza del manubrio è quella giusta e vi permette davvero dei movimenti anche molto repentini dicevo sale bene oltre il 25 per cento senza alcun problema ammortizzata molto bene davanti e dietro le buche non ci spaventano vai ora con due parole su unboxing e montaggio pacco compatto e ben protetto 36,5 kg vamos nella confezione montaggio da 10 minuti urban green transport solution così è scritto appunto il nella scocca di questa fantastica bici e vi posso garantire che questa è davvero una bici green che ha tutte le carte regola per diventare una delle mie preferite ha un colore davvero che ti faranno i complimenti è studiata nel minimo particolare un motore davvero competitivo con tutte quelle altre che sono le e bike del suo mercato qualità costruttiva e motore quindi top ve la posso consigliare al cento per cento se anche questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale stanno arrivando altri 4 5 modelli che vi faranno impazzire più tante novità high tech e soprattutto green ciao ragazzi a presto ciao 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 ciao